Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari. In apertura, nuovo bando della Regione Puglia destinato alle fasce deboli ad accedere ai sussidui la rete delle imprese sociali. Ce ne parla Alessandra Bucci. Piccoli sussidi per un grande passo contro la crisi occupazionale con uno sguardo particolare alle fasce deboli. La vocazione del nuovo progetto regionale il cui avviso è stato pubblicato è quella di migliorare le condizioni di accesso e permanenza nel lavoro di soggetti svantaggiati, creando e formando figure professionali. A fare da ponte tra Regione e singoli soggetti tutta la rete delle cooperative sociali, volontariato, imprese sociali, onlus e ong. Per Alba Sasso, assessore per il diritto regionale lo studio, è uno strumento per consegnare un nuovo protagonismo ai soggetti più fragili. Questo bando si propone l'obiettivo dell'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli della popolazione, anche attraverso la creazione di impresa che questi soggetti possono fare. Il bando sarà utile a consolidare le organizzazioni operanti nel sociale, a creare nuove imprese, a consentire l'ingresso nel mercato del lavoro a soggetti non completamente autonomi. 35.000 euro l'importo massimo del finanziamento è richiedibile su ogni azione, mentre saranno circa 1.200 soggetti svantaggiati che beneficeranno degli interventi, come spiega l'assessore regionale al welfare e alla sanità Elena Gentile. Il finanziamento si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ma sono risorse che poi sono capaci di generare ulteriori investimenti sui territori. Sarà necessario avviare una campagna di promozione, di sensibilizzazione, non solo nei confronti degli interlocutori, e quindi mi riferisco all'associazionismo, al sistema di impresa, ma anche nei confronti del territorio che raccoglie le fragilità. Il CSM ha deciso. Antonio Laudati sarà trasferito alla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma, ma non alla Direzione Nazionale Antimafia. Con 13 voti favorevoli e 8 contrari, il plenum del CSM ha colto la richiesta di trasferimento presentata dal Procuratore di Bari, che potrà ricoprire l'incarico di sostituto Procuratore Generale di Roma. L'ipotesi, maggiormente sostenuta da Laudati di tornare invece alla Direzione Nazionale Antimafia, è stata respinta. E cambiamo argomento, consegna dei lavori. Questa mattina il canile è gestito dall'associazione H in zona ASI. 150 cani potranno ricevere ora cura e protezione in attesa di una auspicabile adozione. Ma come sempre non sono mancate le polemiche. Vediamo. Assessore, oggi finalmente la consegna dei lavori del canile? Sì, finalmente. È un momento importante, l'abbiamo voluto per molto tempo, noi insieme alle associazioni animaliste. È una struttura importante, soprattutto per quanto riguarda la parte sanitaria di questa struttura. È una struttura che forse riusciremo anche a mettere a disposizione dei comuni della provincia, di alcuni comuni che soffrono molto della mancanza, soprattutto del dato sanitario, piuttosto che quello dei rifugi. Ci è costato un bel po' di denaro pubblico. Consegna dei lavori questa mattina per il canile in via dei Fiordalisi, zona ASI. Ma le polemiche sul costo della struttura non ancora terminata non cessano. Giorni fa l'incontro in Commissione Qualità dei Servizi a Palazzo di Città con i dirigenti dell'impresa per capire in che modo si fosse arrivati a spendere una cifra tanto importante. 3 milioni e 600 mila euro in luogo dei 2 milioni e 4 previsti. Tutti i fondi ASI che il Comune dovrà restituire in 10 anni. E anche questa mattina i consiglieri comunali presenti per nulla soddisfatti da ciò che avevano sotto gli occhi continuavano a farsi la stessa domanda. Perché un importo così alto? Questa mattina la consegna dei lavori qui al canile in zona ASI, però voi continuate a dire, è costato troppo? Beh sì, perché dai dati che ha sciorinato l'assessore Maugiri abbiamo capito che da un iniziale progetto che sarebbe costato 2 milioni e 400 c'è stata una variante di 800 mila euro. Vogliamo capire questa variante, cosa giustifica questa variante e quali altri lavori si sono fatti. Tra l'altro mi sembra da questo giro che abbiamo fatto che ci sono ancora delle imperfezioni. I costi sono purtroppo abbastanza elevati. Io l'ho anche annunciato proprio durante una trasmissione televisiva a Telebari. I pregi li abbiamo detti, però da questo punto di vista bisogna fare un approfondimento e questo lo faremo sicuramente in Commissione Qualità dei Servizi. E torniamo ora a parlare di emergenza criminalità. Ieri controlli straordinari di polizia e vigili urbani nel quartiere San Pasquale. A due circoli ricreativi in Via La Terza e Via Maria Cristina di Savoia sono state contestate violazioni di natura amministrativa. Perlustrati i giardini pubblici antistanti la chiesa di San Pasquale e chiesa russa, nonché l'intera area di piazza Umberto. Nascoste tra le aiuole sono state rinvenute 40 dossi di marijuana. Pugliesi, popolo di migranti, presentato oggi il settimo rapporto italiani nel mondo. Ce ne parla Silvia Di Pinto. Puglia, terra di approdo, di sogni e di speranze, ma anche patria dalla quale fuggire per cercare un avvenire migliore. La Fondazione Migrantes si confronta ancora una volta con l'analisi dei flussi in entrata, ma anche in uscita dalla nostra regione. Si è vero che sono 320 mila i pugliesi nel mondo e siamo presenti nelle prime 20 posizioni in tutti i continenti. A fotografare una vera e propria diaspora è il settimo rapporto italiani nel mondo, redatto da 65 autori dall'Italia e dall'estero. Nel 2012 i migranti del bel paese sono cresciuti del 30%, un segno non certo positivo, visto che in un pianeta dai confini mobili sempre più a scappare sono giovani superqualificati, ricercatori, professionisti, creativi purtroppo trovano una casa più accogliente al di là dell'oceano o anche solo delle Alpi, come spiega uno dei redattori del rapporto, Pierpaolo Bonerba. Dobbiamo dare un monito al nostro governo e dire che dobbiamo fare qualcosa per evitare che tutti questi pugliesi, tutti questi italiani così giovani possano realmente andare e poi in realtà non tornare, anche perché l'identikit dell'emigrato attuale è un giovane dai 25 ai 34 anni, con una laurea, un buon titolo di studio, alto livello professionale, che probabilmente porterà un aumento del prodotto interno lordo al paese in cui andrà e quindi impoverirà ovviamente il nostro paese. Le Pietre di Puglia, grandi protagoniste nella Puglia Marbles Awards, premio internazionale d'architettura voluto e organizzato dalla Regione Puglia. Oggi la presentazione del premio articolato in tre sezioni, rivolto ad opere tra edifici e oggetti realizzati con l'utilizzo appunto di materiali pugliesi. I progetti vincitori riceveranno ufficialmente il riconoscimento durante la vetrina Madison Expo che si terrà fino al 18 maggio. E siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra i 16 e i 22 gradi, venti moderati e mari poco mossi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet, telebari.it, radiobari.net e infochiocciolesagnodizorro.it. È tutto per il nostro telegiornale, rimanete con noi su Telebari e Radiobari.